Qualcuno dei miei ancora non ne ha viste tante, allora è giusto anche batterci un po' la testa. La partita l'abbiamo portata via, penso sia stato decisivo il nostro inizio perché abbiamo fatto un gattivo inizio di partita contro Barcellona e ci avevamo condizionato tutta la partita, abbiamo chiesto ai ragazzi di venire qua e quantomeno dare l'impronta a iniziare la partita di un certo tipo ci siamo riusciti e poi chiaramente un po' scomporsi dietro alla grande energia che Vero gli ha messo in campo. Poi l'abbiamo rivinta, l'abbiamo rimessa in gioco e alla fine l'abbiamo rivinta e l'abbiamo rimessa in gioco un'altra volta per poi rincerla ancora, quindi chiaramente sapevamo di venire qua per fare una gran partita per poterla portare a casa, ci rilevamo, penso si sia visto e quando siamo stati in difficoltà, alla fine il momento di difficoltà di Vero gli dovuto avere infortuni di Vinaldi ha creato a noi comunque delle difficoltà enormi per quando Vero gli comunque comunque in tetto alto atletico per emergenza si è messo a fare i cambi sistematici e ci ha completamente bloccato il nostro attacco. Quando abbiamo ricominciato a attaccarli in una certa maniera abbiamo represso confidenza perché all'inizio sinceramente ci eravamo un po' spaventati, penso si sia visto, il parziale inizio del secondo quarto è abbastanza significativo. Ci siamo ripresi, ci siamo ricompattati, sinceramente è una partita che ci darà grande energia. Grazie. Grazie. Grazie.